benvenute e benvenuti a questo nuovo incontro di loving books è il primo ciclo di incontri di dialoghi ideati e a cura di nicola vassallo in memoria di rossella panarese organizzati dalla biblioteca universitaria di genova il libro oggetto di questo incontro è incursioni di salvatore settis di cui vado a leggere dalla quarta di copertina che si tratta di un viaggio nel tempo e nello spazio dell'arte contemporanea per scoprire il suo legame a volte sottile e altre volte turbolento con la tradizione questo perché come si scrive si legge ancora possiamo forse scegliere i nostri padri ma di un qualche antenato non possiamo certo fare a meno parliamo di questo di questo volume insieme all'autore a salvatore settis archeologo storico dell'arte presidente del consiglio scientifico del louvre che ha diretto il getty research institute for the history of art of the los angeles e la scuola normale di pisa accademio di lincei dell'accademia di scienze di berlino monaco torino dell'accademia reale del belgio e fra i componenti fondatori del consiglio europeo delle ricerche ha scritto di arte antica di arte moderna di politica culturale e non voglio dimenticare anche di politica ambientale penso anche agli ultimi volumi paesaggio costituzione cemento la battaglia per l'ambiente contro il degrado civile del 2019 e curatore della mostra e del catalogo i marmi di torlonia collezionare capolavori capolavori che tuttora in corso con salvatore settis sviluppa il dialogo mariangela bruno storica dell'arte che ha condotto studi in particolare sulla scultura del 6 del 700 sulle dinamiche della committenza e del collezionismo genovese in età moderna ha partecipato a convegni e curato iniziative in particolare approfondendo l'iconografia religiosa fra il sedicesimo e il diciottesimo secolo è anche responsabile degli eventi culturali della biblioteca universitaria di genova a loro lascio adesso la parola la rete e auguro a noi tutti di gustare questo dialogo eccoci allora ben trovato salvatore grazie al direttore per la presentazione ringraziamo anche a distanza nicola vassallo per aver creato questa occasione di loving books oggi ci troviamo come dire con questa tua ultima fatica salvatore che ti porta a fare delle incursioni come denuncia anche il titolo ci vuoi raccontare il perché di questa di questa scelta del titolo perché queste incursioni grazie mariangela di questa domanda che serve a introdurre un discorso su questo libro il titolo è mio non dell'editore ma mio l'editore però l'ho accettato molto volentieri filtrinelli l'editore è un titolo che voleva segnalare nella mia intenzione il fatto che qui io esco fuori del seminato cioè non faccio l'archeologo come dovrei come ho fatto come professore universitario eccetera non faccio nemmeno lo storico dell'arte che so io del rinascimento mi sono occupato qualche volta di in un libro per esempio su giorgione e così via ma ho osato sconfinare allora questi questi sconfinamenti poi bisogna vedere se funzionano se non funzionano ma lo sconfinamento era è un è quello che tiene insieme i dieci saggi di questo libro è la prefazione che li introduce e quindi la ragione del titolo è questa la consapevolezza di uscire dal seminato con la speranza che nell'uscire dal seminato oltre a violare qualche regola accademica qualche vantaggio magari ci sia bene direi che come dire questa tua motivazione ci avrà modo anche nel nostro nel corso della nostra conversazione di trovare piena giustificazione in ciò che hai raccontato affrontato direi anche sviscerato in questi in questi diversi capitoli che affrontano artisti e opere con facendoti però come dire forte di quella che è tutta la tua carriera di studioso quindi mettendo a frutto gli strumenti dell'archeologo direi e anche dello storico dell'arte e in effetti leggendo quella che è la tua introduzione che si presenta un po' come un saggio introduttivo che consegna un po' le chiavi di lettura per poi entrare nelle diverse e diciamo figure di artisti delle loro opere e si evidenziano alcune diciamo definiamo le categorie le definiamo quindi partirei intanto con quella che è questa barriera tra arte antiche contemporanea e arte contemporanea che molte volte crea un'ulteriore barriera che è quella con il pubblico anche quindi con il fruitore dell'opera ma io ho creduto di esplicitare un discorso che molti storici dell'arte contemporanea non contemporanea di fatto hanno quasi non voglio dire paura ma insomma hanno forse troppa timidezza per fare cioè il fatto che l'arte contemporanea spesso non si capisce o le persone che non la capiscono che dicono di non capirla sono tante contemporaneamente però attrae ci attrae perché appartiene al nostro tempo perché sentiamo delle sintonie sentiamo delle sintonie e contemporaneamente non riusciamo a capire bene che cosa voleva dire quell'artista allora questa barriera c'è e questa barriera c'è e non c'è è una barriera che un po' vediamo e un po' non vediamo è come il confine fra due fra due paesi diciamo che può essere sollevato e ignorato perché ci fa un accordo internazionale tipo schengen per cui a un certo punto tu passi la frontiera verso la francia e non hai bisogno di un passaporto poi però magari la francia può mettere può decidere perché c'è una pandemia di rimettere in piedi cioè è come una frontiera che vai che vai che viene io credo che esplicitare questo discorso non so se l'ho fatto bene ma che esplicitare questo discorso giovi non per dire che l'arte contemporanea non si capisce e nemmeno per dire che l'arte contemporanea io credo che siano consapevoli anche molti artisti molti artisti infatti fra i saggi di questo libro ce ne sono più di metà ora non ho fatto il conto più di metà che io ho scritto su invito dello stesso artista perché alcuni di questi artisti non tutti li ho conosciuti alcuni li ho conosciuti frequentati anche molto e sono in qualche caso loro stessi che mi hanno chiesto magari anche insistendo che perché erano curiosi non perché io sia un esperto di arte contemporanea né perché io abbia il minimo nesso con il mercato non ho nessunissimo nesso con il mercato né di arte contemporanea ma neppure di archeologia se mi chiedono di valutare un vaso per venderlo io semplicemente rispondo no perché non è il mio mestiere credo che è bene tenere le mani non voglio non voglio dire pulite perché non è che chi fa mercato si sporca le mani ma non è quello che faccio allora ci sono degli artisti che hanno che sono stati molto che sono hanno mostrato la curiosità di vedere come uno che non c'entra niente cioè uno che studia archeologia o storia dell'arte che so io del medioevo del cinquecento come guarda la loro opera e che cosa vede e il dialogo con questi artisti per me è stato straordinariamente interessante non ho molto recalcitrato prima di accettare questo dialogo ma alla fine sono contento di averlo fatto e poi qualcuno anche storici dell'arte contemporanea mi hanno invitato a raccogliere queste cose a metterle insieme a cercare un filo ed è quello che ho finito poi per fare con questo libro raccogliendo non proprio tutto perché ci sono anche altre cose che ho fatto ma queste erano le più rifinite diciamo altre erano dei colloqui diciamo magari fatti nell'occasione di una mostra dei colloqui in pubblico per esempio con pistoletto ho avuto un colloquio molto bello però non abbastanza meditato da 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 essere trasformato facilmente in un saggio per cui pur con tutta la mia simpatia per pistoletto lui in questo libro non c'è in effetti dal dal tuo dal tuo libro emerge la volontà di far affiorare questa tensione e questo dialogo tra antico poi usiamo un po' queste etichette ma sappiamo che è tutto un fluire e e il contemporaneo contemporaneo che abbraccia nel nel tento del tuo volume dalle diverse forme espressive perché appunto abbiamo anche e un saggio dedicato a ingarberba sul quindi il suo cinema quindi una un interesse è come dire molto ampio sempre però in queste premesse che vorrei un attimino toccare per poi avere tutti i nostri strumenti dobbiamo anche un attimino definire cos'è questa tradizione questa tradizione che è sempre un po come dire il polo costante con cui si confronta qualsiasi artista nell'ottica dello studioso dello storico dell'arte quando deve affrontarlo c'è sempre una tradizione di riferimento e cos'è la tradizione e nel a cui ti riferisci nel nel tuo volume ma dunque io ho citato un certo punto ora sto cercando la pagina ma non la trovo da questo punto un una pagina di un bravissimo archeologo è stato anche mio allievo e che insegna a new york e a milano clemente marconi il quale dice molto intelligentemente che la parola tradizione gli storici dell'arte contemporanea tendono a evitare tendono a usare una serie un certo numero di parole che la sostituiscono ma che in realtà ci girano ci girano intorno e voglio trovare questo passo perché mi pare che sarebbe interessante eccolo in uno scritto su picasso perché non sono naturalmente il solo archeologo che ogni tanto viene invitato a parlare di artisti del nostro tempo clemente marconi in un neutro ordine alfabetico elenca delle parole come allusione appropriazione citazione influenza ispirazione manipolazione pastiche prestito riferimento uso mi sono divertito da aggiungerne altre dieci parole a queste dieci e si può continuare ma allora possibile che sono tutte cose è vero che ci sono sfumature del tutto diverse però non esiste forse un meccanismo diciamo che lega tutte queste cose insieme tu hai usato poco fa un'espressione che mi è molto piaciuta tutto un fluire tutto un fluire io credo che dividere fare le divisioni che ci sono nei manuali che ci sono nelle cattedre universitarie che ci sono negli anni di liceo qualcosa del genere fra arte antica arte medievale arte moderna altre contemporanee eccetera è utilissimo è anche e lo stesso vale per la storia per la letteratura per la musica è utilissimo perché se non facciamo delle se non raggruppiamo non riusciamo mai a dominare però non dobbiamo perdere di vista il fatto che da una nel momento in cui si passa dal medioevo all'età moderna nessuno che viveva in quegli anni se ne è accorto cioè non è che mettiamo che la una delle delle date convenzionali 1492 non si sono nemmeno accorti che avevano scoperto l'america figurarsi se si sono accorti che 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 era finito il medioevo è chiaro quindi c'è tutto un fluire in questo tutto un fluire esistono delle abitudini e queste abitudini sono le abitudini ai linguaggi noi per esempio parliamo latino cioè il nostro la lingua che noi stiamo parlando in questo momento è una forma un po barbarizzata di latino un se arrivasse sulla terra cicerone rispedito dal 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 passato su un missile su una macchina del tempo e ci ascoltasse quello che diciamo direbbe ma cosa mai stanno dicendo questi qua come mai non usano il l'accusativo però qualcosa capirebbe ecco e questo il 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 passato la tradizione non va intesa come spesso si 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 ritiene o si crede ingenuamente come qualcosa di passivo non c'è la tradizione da una parte l'innovazione da quell'altra la tradizione è il trama e il tramandarsi delle cose cambiandole questa è il grande insegnamento della storia perché non dovrebbe essere così anche per l'arte allora credo che esaminare il l'equilibrio fra quello che cambia e quello che resta sia sia una uno degli strumenti cognitivi di cui uno storico in generale uno storico dell'arte in particolare può e deve fare uso io nel parlare di tradizione come ho scritto nel libro ho usato ho tenuto presenti soprattutto due modelli naturalmente ce ne sono moltissimi due modelli che a me sono entrambi cari quello di warburg con la sua col suo corso grande atlante mnemozione con l'idea che che aveva l'idea che 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 nacque dall'idea di offrire una mappa della memoria culturale europea da un lato e dall'altro lato schlosser che con la sua idea di tradizione artistica metteva l'accento sulle pratiche di bottega sul fatto che ogni artista imparava nel medioevo ma in realtà anche oggi ogni artista impara dagli altri artisti impara anche se non ha nessuna bottega anche se nasce da solo e produce le sue cose senza il minimo riferimento a una scuola o un'accademia costruita come tale non può non avere negli occhi qualcosa rispetto a cui in qualche modo si propone quindi con questo uso diciamo duttile della parola tradizione io ho provato in questo libro a fare i miei conti che non necessariamente sono quelli degli altri quello che mi colpisce peraltro ho cercato un pochettire di scandagliare come poi ti accennavo i saggi diciamo un po' meno battuti di questo tuo volume ho seguito un po' le diverse presentazioni che hai fatto nel corso di questi mesi e ciò che mi è balzato molto evidente è questo aspetto di questa appunto mappa culturale che richiami di Vardeghiano anche in memoria che peraltro come giustamente tu sottolinei viene il lavoro intrapreso da Vardeghiano viene riportato in auge anche recentemente per iniziativa di artisti che ne comprendono la forza e questo captare da parte degli artisti l'importanza di Vardeghiano ma dopo il tempo captare anche come dire la sintonia verso il proprio tempo e anche verso ciò che è passato che al contempo è attuale perché continua a parlare e si evidenza in diversi tuoi scritti di questo volume e quindi guardavo appunto proprio quello di Bruskin questo artista sovietico che fa un'operazione di estremo interesse e un lavoro sulla memoria attraverso quel suo lessico che mette appunto fondamentale che è una un'astrazione una serialità che viene a creare e astraendo quelle immagini di quelle sculture che vedeva da bambino proprio sotto casa e che a contempo hanno quel carico anche dell'immaginario delle teorie dei santi della pittura ortodossa che in Russia si vedono ancora oggi nelle immagini delle icone ti chiedo un pochettino come ti sei avvicinato all'opera di Bruskin e quindi questa tua indagine usando il metodo archeologico per la sua opera che quanto mai come dire appropriata ma intanto io vorrei dire che ci sono un certo numero di artisti contemporanei io in questo libro ce n'è solo uno cioè Bruskin che fanno dell'archeologia l'oggetto dell'arte cioè non ne estraggono delle cose ma fanno delle operazioni fingendo di fare archeologia per esempio i coniugi Poirier che io ho conosciuto anche bene che sono stati arghetti quando io ero direttore per un anno i coniugi Poirier hanno inventato degli scavi in città inesistenti hanno inventato delle piante degli oggetti delle cose e Bruskin fa un'operazione diversa quasi opposta che però è un'operazione archeologica lui deve essere stato particolarmente bersagliato nella sua infanzia nella Russia sovietica da educatori molto occhiuti i quali imponevano a questi poveri bambini dei modelli di comportamento senza pietà e gli dicevano tu devi essere un buon ingegnere un buon medico un buon maestro un buon agente del KGB o qualsiasi altra cosa per ogni mestiere c'era l'idea di una figura ideale un modello da seguire assolutamente ognuno doveva essere perfetto in quello che allora lui a un certo punto negli anni anteriori alla crisi che poi ha portato alla fine dell'Unione Sovietica anche prima della caduta del muro di Berino cioè prima del 1989 lui ha cominciato aveva fatto altre cose prima ha cominciato gli è venuta in mente di prendere ciascuna di queste figure ideali la maestra perfetta il medico perfetto eccetera eccetera e di trasformarle in figurine in figurine come fossero le figurine dei santi che in certe icone di tradizione bizantina e dunque anche russo ortodossa si allineano nei cosiddetti menologi cioè in quelle icone che nello spazio di un quadro solo tengono i santi di ogni mese quindi almeno 30 anche di più e tutti uguali e riconoscibili dalle 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 dai loro attributi parlando a Genova come San Lorenzo si riconosce dalla graticola così anche i santi bizantini hanno hanno tutti le loro allora lui che cosa fa prende l'ingegnere col compasso il medico con con il che so io con il camice lo stetoscopio e così via e ha fatto alcuni quadri con queste con queste con tutte queste 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 cose dopodiché nel momento in cui la russia cominciava ad aprirsi al mercato occidentale c'è stata un'asta in cui qualcuno ha apprezzato molto quest'opera proprio anche per il valore polemico contro la russia sovietica che aveva e lui ha venduto dei quadri credo per un milione di dollari qualcosa del genere negli anni 80 quindi una cifra ancora più ancora più enorme di quanto non sia oggi e lui è diventato improvvisamente famoso in russia e fuori poi però ha sviluppato questa cosa si è trasferito altrove in un'unione sovietica è caduta ma la sua ossessione continua allora lui oltre che fare disegni a razzi tappeti porcellane eccetera eccetera fa soprattutto delle statue di questi di queste di queste figure di queste icone sempre con i loro attributi eccetera state un po più piccole del vero di bronzo di solito le le dipinge qualche volta di bianco poi le porta in toscana questa è una delle ragioni delle cose più misteriose gli ho chiesto perché l'ho anche incontrato ma non mi è molto chiaro perché le porta in toscana e le perché gli piacciono gli etruschi fondamentalmente le seppellisce in una zona del chianti del senese probabilmente gli piace anche il chianti e poi le lascia lì due anni o tre poi le scava con l'ausilio di archeologi veri e poi dopo gli archeologi fanno anche le analisi del bronzo delle cose come se fossero dei reperti di mille anni fa allora in tutta questa operazione la l'unione sovietica diventa come una specie di objet trouvée come qualcosa che appartiene come se appartenesse a un passato talmente remoto che c'è bisogno dell'archeologia per ritrovarlo senza risuscitarlo questo mi è sembrato un discorso molto interessante che mi pareva valesse la pena di esplorare in questo senso quando gli ho chiesto perché la toscana lui ha girato la domanda e mi ha detto ma in realtà non tanto la toscana l'italia perché l'italia c'era l'impero romano poi c'è stato l'impero bizantino poi la terza roma e mosca quindi lui l'ha girata un po così e non so se è tutto qui o se c'è qualcos'altro gli artisti sono molto renitenti a dire quello che veramente pensano e fanno anche bene giustamente e peraltro quello che è interessante in questa operazione di bruskin è che io rilevo quasi che l'artista ha in persona anche la figura di cronos del tempo che va a come dire a distruggere queste sculture e a dare loro una patina sotterrandole io penso ai frontespizi dei nobilia opera ad esempio di françois peren che pubblica questa serie di scelta delle sculture dell'antichità delle collezioni del 5 600 e nel frontespizio c'era proprio questa figura del tempo questo anziano con le ali che rosicchiava il marmo e allora mi è balzata subito agli occhi mentre leggevo il tuo saggio e guardavo queste immagini di queste sculture in bronzo che vengono mutilate poi sotterrate. Sì ma è esattamente questo lui si prende il lusso di fare diciamo il soggetto e l'oggetto di questa il soggetto l'oggetto e lo strumento direi tre cose diverse il soggetto l'oggetto e lo strumento di questa operazione che si potrebbe chiamare di misanabim della sua memoria delle sue memorie d'infanzia negando il loro carattere personale cioè lui ci sta dicendo non c'è nulla di personale in questo questo è un mondo a cui in cui mi è capitato di vivere io credo di dover raccontare come era quel mondo lì ma credo di dovervi anche raccontare che quel mondo è morto in un in un secondo non c'è più non c'è più e però c'è un modo per farvelo per farvelo ancora presentare ovviamente lui sa benissimo come sappiamo tutti che non manca nelle ex terre dell'unione sovietica non mancano legioni di nostalgici che magari vedendo le opere di Bruschini vedendole emergere da uno scavo in una sua mostra pensano ma come si stava bene allora è anche perfettamente possibile e lui non sembra non giudicare sembra non giudicare in tutto questo insomma il tema della sua della sua arte non è soltanto o tanto l'unione sovietica quanto proprio il tempo assolutamente di estremo interesse peraltro è molto interessante anche questa tua sottolineare il fatto appunto per spersonalizzare l'operazione dell'artista che come dicevi non vuole semplicemente raccontare un proprio vissuto ma si fa archetipo di un cittadino sovietico e rappresenta la storia diciamo di un popolo di un periodo e di un farmento di storia che potremmo definire tranquillamente europea quando appunto tu fai dei raffronti con ad esempio il volume del libro degli scacchi di Jacobo da Cessle che peraltro in biblioteca universitaria abbiamo una copia di questo volume e non l'edizione ovviamente di Utrecht ahinoe ma del 1495 che è sempre un incunabolo e poi le fotografie di Auguste Sander che sono degli scatti di straordinaria forza bellezza direi anche usiamo questo termine che trovo molto sgradevole ma l'uso per comodità di modernità di grande modernità nella posa nell'inquadratura quindi dei bellissimi bianco e nero che vanno a creare tassonomicamente una rappresentazione della società tedesca di quel d'intorno d'anni quindi parliamo dei primi decenni del novecento e così nel libro di Cessle c'era invece questa come dire raffigurazione attraverso il gioco degli scacchi della società medievale e di come dire ognuno aveva un proprio posto per creare un'armonia d'insieme e questo devo dire l'ho trovato di estremo interesse questa apertura a uno sguardo più ampio riguardo la memoria il pensiero corre a Mimmo Iodice che fa un altro tipo di operazione con le sue straordinarie fotografie e ce ne vuoi parlare? Ma Mimmo Iodice ho un rapporto invece più personale, Bruskin l'ho incontrato solo un paio di volte con difficoltà perché lui sostiene di non parlare nessun'altra lingua che non sia il russo, io il russo non lo parlo e quindi parlare con interpreti non funziona molto bene invece con Mimmo Iodice ho un'amicizia non stretta ma con una grande simpatia da molto tempo, lui è uno di quegli artisti di cui dicevo prima che proprio ci teneva a sapere come io guardavo alla sua opera, in particolare come guardava la sua opera di fotografo delle antichità e infatti in un grande volume che è stato pubblicato in occasione di una mostra a Napoli da Electa, un grande volume che è stato fatto in realtà dopo la mostra e dove ci sono moltissime fotografie di Iodice molto belle come sempre, ci sono tanti saggi e il mio era su questo tema, però quello che a lui è piaciuto di più, quello che a Mimmo è piaciuto di più non è tanto il fatto che vi ho parlato di lui che fotografa, che so io affresco da Ercolano o una statua del Museo Nazionale di Napoli o dei Ruder in Turchia o quello che sia, quello che a lui è piaciuto di più è che io nel parlare delle sue foto dell'anticità ho usato anche foto che dell'antichità non sono, cioè ho visto una affinità di procedura nel suo modo di fare con delle altre foto che ha fatto Iodice molti anni fa quando lui amava fare i cosiddetti strappi, cioè lui faceva una foto, lui lavora in modo molto elaborato con delle tecniche antiche, non gli piace il digitale, non nega affatto il digitale ma non vuole lavorare con quello, lui vuole che il materiale della fotografia, lui vuole scolpire la luce diciamo così e quindi lui vuole lavorare nello scolpire la luce e potere nelle varie fasi dallo scatto fino allo sviluppo, fino alla stampa, lui vuole in continuazione intervenire, una delle operazioni che lui ha fatto è stata quella di prendere una fotografia, strapparla e ricomporla, in questo strapparla e ricomporla o magari strappare, magari fare due scatti velocemente vicini l'uno all'altro e poi ricomporre, strappare, è un vero strappo fatto con le mani, non con una forbice, quindi con un segmento molto casuale fra un pezzo e l'altro e poi ricomporre magari la metà di uno scatto con la metà di un altro scatto, qualche volta anche la metà di uno scatto in bianco e nero con uno scatto a colori. Allora lì lui fa un'operazione, sei stata molto brava a indicare, a passare a Iodice Davrowski perché in realtà fa un'operazione di archeologia anche lui, cioè lui crea su una propria opera, crea un distacco temporale che poi ricongiunge e come quando, esattamente come quando in una sua foto famosa che ho anch'io da qualche parte qui in casa, in una sua foto famosa lui con la mano, credo nei magazzini del Museo Nazionale di Napoli, che sono straordinariamente belli e ricchi, tiene il mento di una testa femminile, di una dea probabilmente, tiene il mento, perché poi sarà stato nel frattempo riattaccato, lo tiene e è della sua mano, cioè questo mento si è staccato, l'a stato si è rotta, poi lui arriva e ricongiunge. Allora questa sua capacità di vedere il passare del tempo attraverso il disfarsi e il rifarsi delle cose si congiunge molto, io credo, intanto all'intero suo lavoro che non ho affatto esaminato, questo mio saggio è forse il più breve del libro, ma si congiunge a un suo sguardo sull'anticità che non ha nulla del patriottismo del napoletano o del meridionale, come del resto sono anch'io, che dice mai noi una volta c'erano i greci o qualcosa del genere, lui non gli importa per fortuna nulla di questo, quello che gli importa è che queste anticità dovunque siano, in qualsiasi rapporto viscerale noi possiamo porsi con loro, parlano a noi, sono di esseri umani come noi che parlano a noi e tutto il processo che hanno subito da allora ad ora di disfacimento, di restauro giusto, sbagliato che sia di pulizia, di sporcizia è qualcosa che descrive la biografia di quel particolare oggetto ma anche la biografia delle persone che se ne sono occupate da chi lo ha fatto a chi lo ha rotto, magari a volte consapevolmente a chi lo ha scavato, restaurato e così via e questo può valere anche di una fotografia di Mimmo Iodice che tutte queste cose le ha fatte tutte lui, magari in un giorno solo. Sì, devo dire che peraltro, ora faccio magari un confronto inappropriato, però queste fratture di questi strappi che impressiona con la propria gestualità Iodice sulle fotografie mi hanno fatto venire in mente un po' anche Gibellina, il gran decreto di Burri, perché queste fratture di Iodice sono in evidenza, non sono camuffate, devono essere viste e hanno una loro valenza. Quando sono stata Gibellina, aver percorso quelle che erano le strade della vecchia città con l'intervento di Burri, dava proprio l'impressione di percorrere delle ferite, a me è dato proprio le ferite di una terra che si è aperta, quindi ho avuto un po' questo ricordo, visto che si parla anche di richiame, di mappe nostre, di nostre visioni che si aprono, come diceva anche Schlosser, ne abbiamo alcune nel corso del tempo. E ciò che trovo di straordinaria efficace è anche questo discorso che tu fai su un'archeologia che non è vista in maniera passiva, idealizzata, distante, ma in maniera molto presente da parte di Iodice, l'intervento che dicevi straordinario della mano che accosta il frammento al volto della statua, ma anche pensavo all'immagine dell'Anfiteatro Romano di Capo, a questa soglia con questa fotografia che crea questo movimento, tra virgolette una foto sporca, non è una perfetta messa a fuoco che crea l'idea di un movimento, di un varcare la soglia, di un entrare e attraversare uno spazio che diventa attuale insomma e che è molto presente e stringente al nostro presente. Da Iodice io salto a Ingmar Bergman perché qui leggo il firruge del racconto dell'antico in maniera differente, Iodice appunto ha questa sua dimensione, invece in Bergman c'è un'archeologia, come dici tu, del rito, che è il titolo poi del film che Bergman realizza, gira alla fine degli anni Sessanta. Che cosa ci dici di questa straordinaria figura del suo lavoro? Ma lui è uno degli artisti di cui si parla in questo libro che non ho mai incontrato purtroppo e mi piacerebbe molto, ma non mi è mai capitato né lui mi ha mai chiesto, probabilmente non mi ero mai chiesto di occuparmi del suo film. L'ho visto allora, ho scritto una prima versione di questo saggio nel 1974, l'ho trovata per caso in fondo a un cassetto, mentre già correggevo le, credo, le prime bozze di questo libro e l'ho inserito, l'ho completato questo saggio dopo con una distanza di decenni e credo che gli abbia giovato, rifarlo adesso con più distacco. Perché mi sono occupato di questo film? Non è soltanto come si potrebbe pensare, perché volevo che in questo, parlando di arte contemporanea, ci fosse anche la fotografia, gli odici, ci fosse anche il cinema, Bergman e ci fosse anche, come c'è, la videoarte, Bill Viola. Ma perché proprio quel film mi aveva molto intrigato allora. È un film singolarissimo, dove c'è un vero e proprio rito, la cui matrice dionisiaca è molto chiara, molto evidente dal film stesso. È come una specie di rifacimento in Svezia da parte di un gruppo di attori che fanno la parte degli attori, cioè ci sono degli attori anche molto noti che fanno gli attori di un piccolo gruppo che fa degli spettacoli e viene accusato di oscenità. C'è un giudice che li accusa, sono pochissimi personaggi, tre attori, un giudice, non c'è nessuno. Poi a un certo punto c'è un confessore, questo giudice si confessa perché i luterani hanno la confessione, cosa che ho imparato allora, non lo sapevo, ma la variante luterana del protestantesimo ha conservato la confessione come nella Chiesa Cattolica e questo confessore è lo stesso Bergman. Unico caso in cui Bergman compare in un suo film e parla, quindi anche questo era molto singolare e rivela il suo coinvolgimento. C'è una scena di questo film in cui si può riconoscere, credo di averlo mostrato con un confronto di immagini parlante, si può riconoscere una matrice iconografica molto precisa che Bergman sicuramente ha conosciuto dal vivo o da un libro, cioè una scena della Villa dei Misteri che per l'appunto riguarda un rito dionisiaco. Allora, questo però uno può dire e con ciò Bergman ha usato un'immagine di Pompei che male c'è e che cosa comporta. Allora io invece credo che questa immagine sia la chiave per entrare in un mondo molto più complesso che è il mondo del dionisismo degli anni 60. Il film fu fatto e diffuso fra il 67 e il 69, cioè negli anni intorno al 68, cioè negli anni in cui le baccanti di Euripide riaprono improvvisamente di colpo a cominciare da un garage di New York dove si fecero delle famose recite, riaprono di colpo la fortuna non solo di quella tragedia, le baccanti stesse di Euripide, ma dell'intero teatro greco. Si è sempre fatto un po' di teatro greco anche nelle università, però la grande fortuna nuova del teatro greco che dura ancora nasce in quegli anni. Perché il dionisismo? Perché il dionisismo era collegato con l'idea della infrazione delle regole, con l'idea della trasgressione, con l'idea di non accettare le regole, con l'idea che qualcuno, un individuo che arriva può essere Dioniso, cioè può essere il dio che cambia la comunità in cui entra, che poi l'idea anche alla base di un film dello stesso esatto periodo, e cioè Teorema di Pasolini. Anche lì c'è un piccolo numero di personaggi, arriva questo personaggio che non si sa se è un angelo, un dio o qualcosa, ma arriva e di fatto cambia la vita di tutti perché la sua duttilità e la sua capacità di entrare in sintonia anche sessuale con tutti gli altri, uomini o donne che siano, è un dato, un elemento della sua stessa essenza. Allora frugando e lavorando in questo ambito la struttura del film diventa molto più evidente, è la stessa presenza del rito, è singolarissimo che un regista come Bergman, che certamente ama i riti, anche nel posto delle fragole c'è il rito della laurea onoris causa del professore tal dei tali eccetera, però un rito di duemila anni fa non è molto facile immaginarselo nella Svezia dove i templi di Dioniso non ce ne sono stati mai. Quindi cercare di ricostruire a quel mondo e di vedere quali meccanismi innesca in noi questa antichità di secondo grado. Per un archeologo come me che le baccanti di Euripide le ha lette, potrei dire, quasi da bambino, obbligatoriamente, perché uno che studia lettere classiche mi ha fatto io le doveva leggere, purtroppo le lettere greche sono così poche che si possono leggere tutte, vorrei che ci fossero tutte le altre, ma non ci sono, ma il rivedere anche la tragedia greca attraverso l'effetto che può fare questa trasgressione estrema, la madre di Penteo che dilania il proprio figlio senza accorgersene, il giudice del film di Bergman che di fatto mentre deve giudicare per oscenità questi attori ne è straordinariamente attratto e alla fine si offre come vittima. Allora questa dialettica fra la suprema, la trasgressione come suprema manifestazione della libertà del vivere, però attrazione verso il morire, questo è un marchio di quegli anni, che però forse è ancora degli anni nostri, io non posso dirlo, sono troppo vecchio per sapere come pensano le persone della tua età o ancora più giovani, ma credo che da allora ad ora questa sorta di contraddizioni o di convivenza di due sentimenti o di due emozioni opposte ha fatto parte di questo animo dilacerato che a volte chiamiamo con una parola che vuol dire ben poco, modernità. Peraltro appunto mentre leggevo il tuo libro, come ti ho anticipato anche nel nostro incontro precedente, questo libro è una palestra per la testa che stimola veramente a informarsi, a conoscere e a guardare altri rimandi e quindi ho guardato un po' diverse anche interviste di Bergman perché mi ha molto incuriosito come personaggio e c'erano alcune cose che erano diverse e intanto il discorso che negli anni settanta la Rai lo aveva contattato o si era messo in contatto lui per fargli girare il film sulla passione di Cristo. Lui voleva peraltro ambientarlo in Svezia e sicuramente avrebbe avuto una visione molto laica e i funzionari Rai rimasero un po' interdetti di fronte a questa visione proposta per cui ripiegarono tra virgolette su Zeffirelli che era forse più consono con le scelte che loro avevano in testa. Altro aspetto che mi era molto piaciuto di ciò che lui dice è che parla di questa importanza della luce nei suoi film, esalta questo suo collaboratore dicendo che è il migliore assolutamente nell'ambito cinematografico perché dice che la luce era questa parte integrante e che poteva dare quasi una sensazione acustica esaltando quindi gli stati d'animo ed è di nuovo questo un aspetto che trovo molto interessante anche perché mi sono riguardata un po' la scena appunto anche del rito e il gioco che ha la luce è estremamente importante anche come dire come sappiamo nel racconto poi del rito stesso dove l'immagine della maschera dorata si riflette nel vino sangue che ha questa metamortosi insomma e poi un altro aspetto che mi aveva colpito è che parla del meccanismo della creazione artistica dove dice che sostanzialmente lui diceva che c'erano dei dettagli insignificanti che gli tornavano in mente continuamente e che allora si domandava il perché gli tornassero continuamente in mente e dice cito proprio come se insistesse l'immagine per interessarmi e allora capivo che dietro quell'immagine si nascondeva qualcosa come se fossi sulla soglia di una porta io lentamente dovessi aprirla per poi scoprire un passaggio a una situazione più ampia e da lì diceva vedevo già le scene insomma del film e quindi come dire trovo un po' un parallelo tra quanto lui descrive come creazione artistica un po' anche l'impostazione che tu hai dato nell'affrontare tutti questi diversi capitoli hai un po' per volta fatto aprire questo uscio e ci hai fatto entrare un po' per volta ma se posso interromperti un istante direi che queste parole di Bergamo io non ho visto questa intervista poi mi darai l'indicazione perché la voglio proprio vedere sarà bellissima e quelle parole di Bergamo che tu hai citato sono una meravigliosa definizione di quello che io ho cercato di intendere per tradizione cioè uno vede qualcosa vede come una pagliuzza che brilla nel buio abuzza lo sguardo e trova l'oro e questo oro lo riusa in qualcosa che vuole scrivere o che vuole filmare e in riferimento alle parole quando dicevi Bruskin ha detto qualcosa ma sai gli artisti non si vogliono far capire più di tanto lui dice anche questa cosa che non bisogna cercare di capire i suoi film ma di viverli con la propria sensibilità e fa un cita proprio una frase di Stravinsky e anche questo l'ho trovato come dire molto interessante ma non è finito il mio interrogatorio Salvatore in questo racconto che tu fai del mondo contemporaneo artistico che ci circonda c'è la figura poi di Giuseppe Pennone che è una figura straordinaria devo dire ho visto diverse sue opere e effettivamente è forse una delle personalità artistiche più importanti a mio avviso dell'Italia per la sua capacità di intervenire e per la sua proposta che è di estremo interesse che a un primo sguardo può essere molto banalizzata in realtà c'è un percorso estremamente significante del suo lavoro del suo intervento e del suo rapporto con la natura tu peraltro fai un bellissimo preambolo al saggio dedicato a Pennone partendo da quella che è la concezione del mondo antico dell'albero quindi facendoci un po' approcciare ed avvicinare anche a una sensibilità che può toccare un artista che si avvicina a questi esseri viventi cosa ci dici dell'opera di Pennone? intanto come lo hai conosciuto Pennone? l'ho conosciuto l'ho conosciuto in questa occasione perché non lo conoscevo prima era un caso in cui io ero simultaneamente attratto dalla sua opera ma non mi ero mai proposto di spiegare il perché ero attratto perché un'opera, questi suoi alberi che reggono un grande masso sulla cima sono talmente impressionanti che dovunque tu li veda in un campus americano, in una piazza di Roma eccetera fanno una grandissima impressione e lui che attraverso Carlos Basualdo che è uno storico dell'arte argentino che ha lavorato però anche in Italia e ora è a Filadelfia al museo di Filadelfia mi hanno chiesto Carlos e Giuseppe di occuparmi di questo perché lui era molto curioso di esplorare di far esplorare da un archeologo le affinità che lui sentiva oscuramente di avere con l'arte antica e io ho passato un'intera giornata con lui molto bella mi ha fatto vedere disegni, mi ha parlato non gli ho fatto domande dirette su questo tema perché chiaramente mi sembrava perché intanto perché mi sembra anche a Bruschi ho solo chiesto quella cosa perché in Toscana ma non gli ho chiesto perché le seppellisci gli ho chiesto solo perché in Toscana e agli artisti che ho conosciuto non ho mai fatto domande dirette perché credo che il loro compito e quello di chi si occupa di loro sia diverso, strutturalmente diverso però mi sono ho cercato ho molto resistito all'idea perché mi sembrava molto lontana dalle mie competenze anche se era un'opera di cui sentivo rispetto alla quale sentivo e sento delle reazioni emotive riflettendo su questo poi ho pensato a qual era la difficoltà e la difficoltà era e resta credo per molti il fatto che il legno che è la materia principale che lui lavora ne lavora anche altre ma il legno è da sempre una materia della scultura è da sempre non è che il legno non è una grande novità scolpire negli alberi ma che cosa fa lui? Lui non è che scolpisce negli alberi lui prende l'albero e prende un albero che ha non so 200 anni e ci scava dentro sulla base degli anelli di accrescimento quello che era lo stesso albero 122 anni fa cioè ancora una volta lavora sul tempo e infatti credo che quel mio saggio si chiami scolpire il tempo oppure prende un albero e fa una scultura di bronzo di quell'albero dopodiché lo mette in un bosco accanto ad alberi simili a quello e uno che passeggia per quel bosco se non lo tocca non si accorge che è un albero diverso degli altri alberi allora il fatto che l'albero sia diventato che l'albero che il legno dell'albero sia diventato non più diciamo la materia della scultura ma il soggetto della scultura come una persona come una persona allora questo mi ha aperto tutto un mondo che poi ho applicato anche ad altre cose come lui usa le spine di acacia come lui usa i sassi eccetera eccetera e allora lì ho colto quella che credo che sia una delle ragioni della sua grandezza nel nostro tempo e cioè con grande acume e molto precocemente non so esattamente quanti anni ha credo quasi quanti ne ho io quindi avrà più di 70 anni suppongo qualcosa è il 47 è il 47 ecco quindi ma molto presto lui ha colto quello che oggi invece è diventato un tema della filosofia un tema dell'antropologia cioè l'interconnessione il fatto che è vero che noi siamo esseri umani è vero che noi abbiamo la capacità che so io di fare questo discorso mentre gli alberi non fanno questi discorsi non lo fanno che so io i cani o le tigri o le zanzare ma tutti gli esseri gli esseri viventi e in realtà anche gli esseri non viventi anche i sassi anche le acque eccetera eccetera sono interconnesse e questa interconnessione vitale dà alla alla presenza umana nel mondo e anche alla nostra responsabilità rispetto al mondo un altro spessore allora credo che la scultura di Penone perché lui è scultore anche quando fa delle cose che potrebbero sembrare più pittura per esempio questi grandi occhi fatti con spine di acacia eccetera è scultura e credo che lui la consideri tale ci sono i suoi disegni che evidentemente non sono scultura ma sono collegati a questa sua stessa visione io credo che facciano parte di questa di questa protoecologia cioè lui è un ha cominciato a ragionare in un senso che oggi chiameremmo ecologico ma non per stare a una moda ecologica ma per l'istintiva affinità che lui ha provato e prova e che credo dovremmo provare tutti con un mondo di piante di animali di sassi di fiumi eccetera eccetera che è poi il mondo in cui noi viviamo allora è per questa ragione che quando ho cominciato a occuparmi di questo ho pensato di partire proprio di rispondere un po' scherzosamente a questa cosa che lui non mi ha detto mai personalmente ma me l'ha detta attraverso Carlo Spasualdo che lui si sente affini alla scultura antica usando proprio parlando proprio di Xoana cioè di queste statue di legno di cui parlano le fonti antiche che erano dicono le fonti classiche che erano la forma più arcaica della scultura greca Dedalo il prototipo dello scultore greco scolpiva nel legno e siccome di questi Xoana naturalmente non ce ne sono più perché il legno non regge ho riprodotto invece i tre soli che ci sono che si sono trovati in Sicilia perché in una fonte di acqua sul furia si sono conservati particolarmente bene ed è chiaramente questo è come dire l'albero che Penone scolpisce in qualche senso in qualche modo è un Xoanon cioè è ancora l'oggetto di un culto in un mondo così diverso dal nostro non è il culto che sia verso una divinità ma il culto che dovremmo avere verso il mondo a cui dimentichiamo spesso di appartenere come se gli esseri umani fossero qualcosa che è calato da un altro pianeta come non è in effetti la sua attenzione verso la materia dove veramente l'albero in questo caso che lui sceglie diventa soggetto come giustamente tu dicevi siamo come dire solitamente l'arte solo antropocente quindi a rappresentare l'uomo e soltanto le sue passioni ma bellissima intanto la foto che tu hai messa in apertura di saggio che lo raffigura mentre sta scavando dentro a un albero ed è proprio quello che tu raccontavi lo scavare gli anelli dell'albero e cavare fuori la forma primordiale quasi dell'albero il suo passato iniziale e meraviglioso è anche questa dimensione tattile che si manifesta nell'opera già Alpi Marittime in cui abbiamo appunto le fotografie che sono una documentazione come precisa Penone e che corrono come raffronto a quella dimensione tattile della scultura che ritroviamo in un artista come dire celebrato e che era stato celebrato per questa sua capacità nel riuscire a piegare il marmo quindi in quel caso la pietra che era Gian Lorenzo Bernini di cui Penone si dichiara ammiratore sostanzialmente nell'ammirare la sua libertà la libertà di espressione e forse sì per quanto concerne la scultura tra gli artisti dell'anziano regime possiamo chiaramente dire che Bernini è stato in grado di piegare la materia a ciò che voleva lasciando anche questi non finiti che apprezza così tanto Penone in effetti Bernini sapeva sapientemente come accarezzare con i suoi strumenti le parti della pietra per valorizzare il rapporto con la luce e il respiro che circonda perché ricordiamoci poi uno scultore crea manufatti che vivono nella stessa dimensione che vive l'essere umano quindi a luce spazio e atmosfera che gira intorno di questa opera di Penone della mano di bronzo che come dire modifica e va a interagire a integrarsi con il tronco ti ha detto qualcosa avete dialogato su questa non gli ho fatto nessuna domanda ma siccome lui ha citato poi ho letto lui ha anche scritto molto e nella sua scrittura è molto diciamo poetico ma anche rivelatore quando ho visto che citava Bernini in particolare da un lato l'Apollo e Daphne dove c'è un essere umano una donna che si trasforma in albero da un lato e dall'altro lato sottolinea la straordinaria sensualità della mano di Plutone che affonda nella carne di Proserpina quando la rapisce una cosa che nella scultura del Seicento non aveva precedenti di quel livello fino a quel momento allora mi è sembrato di cogliere questa affinità ma non nel senso vorrei precisare questo non nel senso che Penone abbia voluto fare una scultura neobarocca non ha nulla di barocco e soltanto lui ha accolto con una con intuito per l'appunto da artista ha accolto una affinità fra quel modo di Bernini di scolpire e il proprio modo di scolpire e la tradotta in una scultura io credo che il compito di uno storico come io sono o di uno storico dell'arte come io sono è quello anche di cercare di comprendere un artista vedendo queste analogie e cercando di individuarne delle altre e vorrei fare a questo proposito un esempio e cioè il fatto lui ci sono c'è tutta una sua opera in cui degli anni sessanta in cui lui si distende dentro una specie di cassa che fa per terra un ruscello cioè c'è la deviazione delle acque di un ruscello poi fa una cassa ci si stende lui è steso lì dentro nelle acque di ruscello e poi tornano le acque io nel guardare questo e cosa ho fatto ho portato come parallelo Ungaretti 1916 stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato l'isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso non ho chiesto a Penone potrei chiederglielo se mai lui aveva in mente questa poesia nel fare questa cosa però anche se non l'aveva in mente è meglio perché indica una affinità una affinità elettiva ancora più diciamo evidente e credo che il miglior commento a Penone l'ha scritto qualcuno che non l'ha mai incontrato e non l'incontrerà mai cioè Dante Alighieri perché qui ho cito un passo del convivio dove c'è questo precetto artistico radicale il più radicale mai fatto chi pinge figura se non può essere lei non la può porre cioè per dipingere qualcosa devi essere quella cosa lì altrimenti non lo puoi fare Dante allora questa cosa questa cosa di Dante così strepitosa che poi viene ripresa da Leonardo cioè non è che che questa cosa resta lettera morta per gli artisti e poi viene ripresa da altri eccetera io anche questo non so se Penone avesse mai letto questa canzone del convivio come sempre Dante riesce a condensare a una capacità di condensazione senza confronti almeno in italiano ma credo anche in altre lingue questa questa straordinario precetto artistico serve io credo serve come Grimaldello per capire questa identificazione con il materiale per cui per cui Penone questa è una delle ragioni per cui poi d'accordo con Feltrinelli con l'editore Feltrinelli che ha fatto su questo libro un gran bel lavoro io ho voluto mettere una scultura di Penone in copertina chi ha fatto la copertina ha scelto una diversa da quella che volevo io ma migliore cioè hanno migliorato la mia idea di copertina e credo che questa 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 copertina di Penone dica qualcosa anche di come il libro è costruito perché anche qui c'è il mondo di oggi che è la scorza dell'albero e il mondo di prima che è l'albero com'era cento anni fa che Penone scava con i suoi attrezzi da scultore e ce lo pone in evidenza e peraltro Penone è originario comunque della provincia di Cugno di Garessio quindi Garessio i suoi i suoi boschi cioè quindi è tutto un luogo che ha interiorizzato peraltro se non ricordo male lui attraversa quei boschi che erano in proprietà della famiglia da generazioni per cui c'è un legame proprio anche fisico ed è un po' diciamo un aspetto simile il legame con la terra che ritroviamo anche in Tullio Pericoli e nei suoi lavori Certo Tullio Pericoli che è un caso tra questi artisti quello che forse ho frequentato di più insieme con Bilbiola devo dire ma insomma anche con Tullio c'è un'amicizia fraterna da anni lui ha pur vivendo la maggior parte dell'anno a Milano e avendo lasciato le sue marche natie da molto tempo è molto legato alla terra ascolana da qui viene a una bellissima casa non molto distante da Ascoli dove sono stato varie volte e il principale tema della sua arte oltre a tante in realtà lui ha fatto tante altre cose ma quello di cui mi sono occupato in questo libro sono i paesaggi paesaggi che sono non proprio sempre ma quasi sempre paesaggi delle marche e paesaggi che lui in cui lui ripercorre la terra diciamo dando matericità ai colori non sono disegni è una pittura non piatta è una pittura dove lui stende il colore e poi ci lavora con non so spazzolini da denti spazzolini spazzole oppure insomma matite anche matite cioè scava lui scava e credo che questo suo scavare nella materia pittorica sia nella sua intenzione nella sua esperienza un ripercorrere generazioni di persone marchigiani ma non solo di marchigiani naturalmente di persone contadini o non contadini che hanno camminato che hanno arato che hanno usato quella terra per farla fruttificare questa sua approccio esperienziale alla pittura ha però questo di bello che riesce a fartelo capire cioè tu vedi le sue pitture e se le osservi in una fotografia distrattamente poi non accoggetti di questo ma se le osservi da vicino c'è stata recentemente ad Ascoli Piceno una bellissima mostra con molti dei suoi ritratti che ho avuto il piacere di vedere proprio con lui e tu entri puoi dirlo con parole o no ma in ogni caso non puoi non vedere che dentro che quei solchi minuscoli su un quadro di dimensioni controllabili null'altro sono se non la miniaturizzazione dei solchi senza i quali la terra non produce senza i quali la terra non è e quindi tu vedi questo paesaggio che è un paesaggio è un paesaggio vivo è un paesaggio segnato dal lavoro dell'uomo segnato dal lavoro dell'uomo e segnato anche questo dal tempo anche questo dal tempo un giorno Tullio Pericoli mi ha fatto notare da questa sua casa non lontana da Ascoli mi ha mostrato una lontana collina che spuntava un campanile e mi ha raccontato questa storia il campanile del suo paese natale e lui da quella casa non si vedeva il campanile a un certo punto da dietro la collina è spuntato il campanile cos'era successo perché il campanile spuntasse da dietro una collina era successo che passando dall'aratro tirato dai buoi all'aratro meccanico l'aratro meccanico arando non soltanto in un senso ma anche nell'altro senso aveva provocato un leggero lento e leggero abbassarsi del livello della collina il campanile via via spunta da fuori allora io gli ho detto questa cosa la dovresti veramente scrivere perché è un racconto della scultura del mondo di come il lavoro dell'uomo ci sono noi facciamo gli esseri umani fanno ben di peggio nel modo basta pensare a quello che sta succedendo in Amazzonia adesso però voglio dire anche in questo caso senza nessuna cattiva intenzione il leggero spostamento il passaggio dall'aratro antico all'aratro contemporaneo comporta la comparsa di un campanile questo solo una persona uno sguardo come quello di Tullio Pericoli poteva arrivare a dire una cosa così acuta e peraltro è bellissimo e puntuale devo dire il confronto che fai tra questi paesaggi come dicevi tu fisici che analizzano quasi geologicamente le varie fasi del suo lavoro fino ad arrivare quasi a una ripartizione figlia dei cabrei che come dire disegnavano le proprietà e le colture che venivano fatte trovo bellissimo il confronto con il lavoro di Mario Giacomelli straordinario dire fotografo è molto riduttivo lui stesso diceva di non essere un fotografo e anche qui penso comunque al suo lavoro e visto che era marchigiano anche lui peraltro un marchigiano che non ha mai lasciato la sua terra che è rimasto insomma a Senigallia sempre e che leggevo nel suo operare nel suo fare le fotografie che non erano una semplice rappresentazione del dato naturale interveniva pagando il contadino per fargli per arare il terreno e poi fare i suoi scatti per cui facevano un'operazione quasi di land art in contemporanea poi agli anni in cui si faceva si faceva land art e poi anche questo rapporto con Burri che si viene a creare visto la loro conoscenza ed effettivamente quei paesaggi di Giacomelli hanno una tensione emotiva una carica drammatica che in pericoli non abbiamo assolutamente e che ritroviamo peraltro lo stesso spirito direi anche nel suo ultimo volume con i ritratti che fa a parole invece che disegnando e i suoi ritratti penso alla serie dedicata a Samuel Beckett e anche lì ha un lavoro veramente di un volto che si fa paesaggio un paesaggio della memoria delle memorie dell'individuo sì 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 è quello di di tutti i pericoli si può dire che per lui i paesaggi sono volti e i volti sono paesaggi questo senza dubbio è così della sua affinità con Giacomelli che lui ovviamente conosce molto bene frequente conosce il lavoro molto bene di questo io invece con lui ho parlato ma non so se non credo per una mia domanda ma credo che me l'abbia proprio detto lui e sicuramente questo è assolutamente vero la sua affinità con con Giacomelli è vera la drammaticità nel nei nei quadri di Tullio Pericoli ricorre qualche volta in particolare negli anni dopo che quelle terre sono state afflitte dal terremoto allora lì si vedono lì si vedono città lì si vedono città franare terreni franosi ma non capisci se quello che tu stai vedendo è la terra che sta franando le case che ci sono sopra o un misto dell'una e dell'altra cosa vedi una una un mondo che che in trasformazione e sicuramente anche in altri paesaggi c'è la 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 sensazione di una di una civiltà agraria che si sta lentamente e qualche volta non tanto lentamente consumando concluderei questa nostra conversazione con Leda l'ultimo saggio che chiude il tuo libro e che appunto parla di una Leda inceppi partendo da un'opera che ha avuto un grande impatto e che è estremamente significativo secondo me anche per capire un attimino intanto l'importanza la valenza che hanno ancora le opere d'arte le immagini il loro potere e e al contempo un po' come dire e ci pone di fronte a delle questioni come se il dolore o un sentimento possono essere un esclusivo appannaggio di un gruppo o di una parte della società ecco io questo è l'artista più giovane di cui parlo nel libro quindi in un certo senso la più facile da incontrare ma non ci ho provato non l'ho fatto quando ho visto quel suo quadro perché è quel suo quadro famoso che si chiama Open Casket e che rappresenta il cadavere sfigurato di un ragazzo di colore che era stato picchiato selvaggiamente da alcuni bianchi io questo quadro l'ho visto nella mossa in cui era stato esposto al Whitney Museum in un periodo in cui ho abitato in New York per alcuni mesi e quel quadro mi aveva fatto molta impressione sono tornato varie volte a vederlo anche perché abitavo abbastanza vicino e poi un anno dopo due anni dopo è venuto fuori questo quadro a cui invece è dedicato il saggio in cui si vede una ragazza nuda distesa sopra le cui gambe si vede un uccellaccio appollaiato che mi ha ricordato Leda allora ho provato a fare un discorso su che cosa poteva voler dire questa memoria più o meno consapevole di Leda naturalmente il discorso sulla la polemica su Open Casket è stata molto interessante ma anche inquietante io come dicevo ero proprio in New York in quei mesi quindi mi era molto facile anche seguirla perché c'è qualcuno che ha detto non aveva il diritto di rappresentare questa scena che peraltro si basa su una fotografia che si trova online è una fotografia orripilante che nel libro non c'è perché era troppo orripilante non ho avuto il coraggio di metterla nel libro ma ci sono degli artisti di colore che hanno detto ma lei come bianca non ha il diritto non aveva il diritto di rappresentare questa cosa come del resto c'è anche qualcuno la fattispecie una storica dell'arte svizzera che però quanto svizzera non riesco a capire come faccia questo discorso ha sostenuto che Kentridge non ha il diritto in quanto bianco di parlare dell'apartheid in Sudafrica di cui suo padre avvocato che ho anche conosciuto è stato uno di quelli che hanno combattuto di più contro l'apartheid allora io credo che se ragioniamo in questo modo se ragioniamo in questo modo che le emozioni devono appartenere all'etnia della persona che è stata colpita allora io non potrei dire mai nulla per deplorare l'olocausto in quanto non sono ebreo che cosa vuol dire questo discorso non vuol dire assolutamente nulla io credo però il fatto che nel nostro mondo dei discorsi di questo genere abbiano cittadinanza induce a riflettere piuttosto che arrabbiarsi e protestare contro gli altri bisogna ascoltare con pazienza e contro argomentare Dana Schatz ha fatto intanto la direzione del Whitney Museum ha rifiutato di togliere il quadro dal muro come avevano chiesto a queste persone per qualche giorno si sono messi lì davanti in modo che non lo si poteva vedere perché loro stavano sempre davanti poi si sono stufati se ne sono andati il quadro si è visto lei è stata accusata di aver sfruttato il dolore di quella famiglia per proprio vantaggio per vendere il quadro e lei ha dichiarato che non lo venderà mai e quindi da quel quadro non guadagna un centesimo però insomma anche questa è una risposta debola perché uno potrebbe dire però è diventata famosa per quella cosa lì invece io credo che sia un artista molto interessante a prescindere da quel quadro e anche questa leda questa leda che questa possibile leda su cui è scritto poi questo brevissimo mio testo credo che dimostri la sua capacità di digerire i materiali visuali che vengono dalla sua esperienza in un caso è una fotografia in un altro caso potrà essere un quadro o un affresco per fare un discorso che riguarda il mondo di oggi nella fattispecie credo che questa leda così con gli occhi spalancati aperti che guarda fisso il pubblico e che sta mostrando il massimo della consapevolezza con un uccellaccio appollaiato sulle gambe sta parlando della violenza di cui le donne sono spesso fatte oggetto di solito da parte dei maschi quindi credo che sia un po' questo anche se naturalmente la violenza di Zeus a Leda aveva nel mondo antico altre connotazioni però si presta moltissimo a un discorso come questo assolutamente niente cosa dire che questo è un libro molto bello molto interessante uno di quei libri da sfogliare a leggere anche a più riprese direi e io ti ringrazio Salvatore per averci concesso questo tempo queste parole e ti invito come dire in presenza al più presto per poter parlare di tante altre cose e ti ringrazio veramente di cuore sono io che ti ringrazio ringrazio a te la biblioteca universitaria di Genova che ha organizzato questo incontro Nicola Vassallo che lo ha voluto e chi ci ascolta a presto allora presto a presto a presto a presto a presto a presto